gloria a dio è una gioia ritrovarci per una nuova condivisione biblica vi saluto tutti quanti carissimi siate credenti o non credenti vi saluto nell'amore di dio perché il mio dovere amare ogni persona anche i nemici sapete ci sono nemici che ci perseguitano a motivo della fede ma noi come uomini di dio come servi di cristo siamo chiamati ad amare tutti anche quelli che ci insultano che ci perseguitano in qualche maniera anche quelli che ci odiano gesù ci insegna che noi li dobbiamo amare perciò vi saluto tutti quanti credenti o non credenti uomini che seguite la via del signore oppure malvagi che non seguite la via del signore vi saluto a tutti quanti nell'amore di dio alleluia perché dio è misericordioso dice la bibbia verso tutti lui fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti alleluia quando c'è il sole il sole brilla per tutti per i buoni e per i cattivi allora anche noi dobbiamo amare tutti gloria a dio salutare tutti nell'amore del signore anche se ci insultano o ci maltrattano questo il dovere di un uomo di dio e io questo pomeriggio voglio rivolgere un messaggio soprattutto agli increduli questo pomeriggio mi sono sentito spinto alleluia a condividere questo messaggio ai bestemiatori in modo particolare perché sono povere anime che vivono nel buio loro sono ciechi loro pensano che con le loro parole vuote pensano di offendere lì dio altissimo e onnipotente ma ti voglio subito dire questo caro le tue parole non salgono a dio ti voglio dire il tuo dio è satana ascolta bene quello che ti dice quest'uomo il dio che tu pensi di bestemmiare non è il vero dio del cielo ma è il dio di questo mondo che è un dio falso con la di minuscola e ogni volta che tu bestemmi cara anima che mi ascolti tu stai bestemmiando il tuo dio ma non il mio il mio dio è santo è immacolato è glorioso è perfetto è puro e alleluia pieno di luce e di gloria le tue parole vuote non possono arrivare nei luoghi celesti nei luoghi altissimi vedi che sei uno stolto un ignorante un inconsciente non capisci nulla tu pensi che le tue bestemmie salgono in cielo ma non è così ti ricadono addosso sul tuo capo e quelle parole malvagie un giorno distruggeranno la tua vita ma ti voglio dire quelle parole che tu pensi di dire contro dio di offendere dio non salgono lassù perché lassù non può arrivare il peccato lassù nel regno dei cieli non può arrivare la malvagità lassù non possono salire i pensieri cattivi o le parole malvagie le tue bestemmie anima che mi ascolti bestemmiatore ribelle malvagio e io te lo dico sul video te lo dico anche di persona alleluia perché grazie a dio io non ho paura di dire la verità quelle parole che tu stai dicendo bestemmiatore un giorno distruggeranno la tua testa perché il male che stai facendo ti cadrà addosso perciò ascolta qualcuno che ti dice la verità questo pomeriggio e io ti dico la verità per amore perché queste parole ti possono salvare queste parole che sto dichiarando ti possono liberare dall'inferno dalle tenebre allora ascolta con umiltà è inutile che scrivi commenti inutili i tuoi commenti non valgono niente la verità è qui e tu devi ascoltare questa verità è un comandamento di dio che ogni creatura ascolti la sua parola ed è per il bene degli esseri umani che dio parla a me voglio leggere subito un verso nel libro del deuteronomio capitolo 5 amen e voi cari fratelli in cristo sorelli in cristo diffondete questo messaggio condividete questo messaggio senza paura non abbiate paura non siate codardi diffondete questi messaggi di verità alleluia sui vostri canali o sui vostri come si dice pagine facebook sulle vostre cosiddette bacche su dove volete diffondeteli questi messaggi non siate codardi fratelli ma siate coraggiosi per l'evangelo amen alleluia alleluia noi dobbiamo riprendere i malvagi fratelli perché è scritto nei proverbi su coloro che riprendono i malvagi scenderanno le migliori benedizioni e noi dobbiamo riprendere queste anime perdute li dobbiamo esortare con la parola di dio con amore con pazienza ma anche con forza alleluia perché noi abbiamo una certezza incrollabile cari che mi ascoltate siate credenti o non credenti vi posso dire per la gloria di dio non per un vanto personale perché io non sono niente ma grazie a dio io una certezza assoluta di quello che sto dicendo e nessuno mi può contraddire perché io una certezza incrollabile alleluia nessuno mi può togliere questa fede questa fede verrà con me dopo la morte per l'eternità alleluia io so in chi ho creduto ma tu che ancora non credi tu non hai una certezza sei un'anima trascinata dai venti trascinata dal diavolo dai demoni tu che non credi in cristo o pensi di credere ma in verità non credi col cuore credi solo con la bocca ci sono persone che credono solo con la bocca sapete anche loro sono bestemmiatori ci sono persone che bestemmiano non con la bocca ma con i loro fatti persone che dicono di credere in cristo ma con le loro opere lo rinnegano anche quelle sono bestemmie questo vale anche per coloro che dicono di credere puoi essere cattolico puoi essere testimone di geova puoi essere quello che vuoi anche protestante luterano e anglicano metodista puoi essere battista puoi essere un evangelico solo di apparenza tu dici di credere in gesù io credo credo e poi fai tanti peccati tu sei un bestemmiatore stai bestemmiando il signore con le tue opere malvagie e questa parola è anche per te io ti devo esortare con amore ma con forza perché il signore ti vuole salvare dai lacci di satana dall'inganno delle tenebre il signore ti vuole liberare dalla tua falsità ti vuole far diventare un vero uomo di dio un vero credente un vero cristiano gesù è venuto a liberare i prigionieri e le persone che non credono in un modo o nell'altro sono prigionieri di qualcosa le persone che non credono in gesù cristo e non credono alla parola di dio sono schiavi in un modo o nell'altro c'è chi è schiavo del del peccato della menzogna della bestemmia chi è schiavo della pornografia chi è schiavo dei vizi chi è schiavo dell'idolatria chi è schiavo dell'orgoglio ci sono tante schiavi tu gesù dice chi fa il peccato è schiavo del peccato se tu vivi nel peccato lontano da gesù senza la fede oppure con una fede falsa perché ci sono persone che dicono di credere io credo io credo in gesù io sono un credente ma poi fanno tanti peccati si comportano in un modo che non onora dio anche tu sei schiavo sei schiavo dell'ipocrisia che stai vivendo sei schiavo dell'inganno che stai vivendo e con le tue opere cattive tu stai bestemmiando il nome dell'eterno perciò questo pomeriggio vi voglio avvertire pentitevi ravvedetevi convertitevi al signore al vero dio prima che sia tardi per voi ascoltate un uomo che vi dice la verità voglio leggere deuteronomio capitolo 5 alla gloria di dio al verso 11 deuteronomio capitolo 5 verso 11 dice così la parola del dio vivente non userai il nome dell'eterno in vano non userai il nome di dio in vano poiché l'eterno cioè il dio onnipotente non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano non userai il nome del signore in vano perché il dio non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano la bestemmia cari e usare il nome di dio in vano ma come dicevo prima ci sono persone che non bestemmiano con la loro bocca ma ugualmente col loro comportamento malvagio incredulo ipocrita loro dicono di credere addirittura dicono di essere cristiani battezzati o membri di una chiesa ma con le loro cattive azioni anche se non lo fanno con la bocca ma con loro comportamento loro stanno usando il nome di dio in vano stanno bestemmiando perché con le tue cattive opere col tuo cattivo esempio il tuo cattivo comportamento tu stai bestemmiando il nome del signore cioè stai offendendo e ti voglio dire il signore non lascerà impunito coloro che usano il suo nome in vano ci sono uomini che bestemmiano apertamente con la loro bocca loro pensano di proferire parole offensive verso il signore loro bestemmiano dicono ogni tipo di malvagità con le loro bocche e loro pensano di offendere il nome di dio così ma ci sono altre persone che non bestemmiano con la bocca ma bestemmiano col loro comportamento col loro cattivo modo di vivere con la loro falsità con i loro peccati stanno blasfemando bestemmiando il nome del signore perciò voglio dichiarare questo tramite questa riflessione ogni persona che usa in vano il nome del signore non resterà impunito una terribile punizione verrà dal cielo nel giorno dell'ira di dio e per alcuni anche prima perché dio è un dio che castiga l'iniquità lo dice la bibbia cari e io come servitore di gesù cristo vi devo dire la verità io vi parlo con amore cari se volete mi potete contattare in privato io vi parlerò con amore vi parlerò con dolcezza ma non per questo io devo dirvi parole che fanno comodo a voi io vi devo dire la verità te le posso dire piano te le posso dire con un tono più forte ti posso dire la verità con dolcezza o con forza ma la verità te la devo dire se tu continui a bestemmiare il nome del signore tu farai una brutta fine chiunque tu sia tu sia un credente o tu sia un incredulo ma come fratello ansaldo un credente può bestemmiare sì un credente può bestemmiare una persona che dice di credere in gesù si professa cristiano non importa quale sia la denominazione tu che ti professi cristiano ma poi di nascosto fai tanti peccati commetti delle azioni incoerenti o indecenti delle azioni peccaminose ti professi cristiano ma vivi una doppia vita tu con quel modo di fare stai bestemmiando e il signore non ti lascerà impunito ma l'ira di dio cadrà su di te sui figli della disubbidienza ti voglio dire la disubbidienza una bestemmia è inutile che tutti i professi cristiano se poi sei un disubbidiente un ribelle sei un uomo che vive nel peccato nella carne tutti i professi cristiano io sono evangelico io sono protestante io sono pentecostale anche pentecostale puoi essere ma purtroppo se tu vivi nell'incoerenza nell'ipocrisia nella falsità nella menzogna tu sei un pentecostale bestemmiatore tu sei un evangelico bestemmiatore tu sei un evangelico blasfemo che stai andando incontro alla rovina io te lo dico guardami caro con il cuore veramente in mano e te lo dico con amore chi parla con me fratelli dal vivo oppure telefonicamente sa che io parlo con amore anche se a volte grido la parola di dio ma perché alleluia c'è uno zelo che mi anima gloria a dio e guai a me se non avessi questo zelo fratelli e sorelle e voi increduli che mi ascoltate c'è ancora tempo per ravedervi per salvarvi dall'ira di dio che verrà perché il signore non lascerà impunito chi bestemmia il suo nome ci sono diversi tipi di bestemmie la bestemmia con le parole la bestemmia coi pensieri sapete che ci sono persone che bestemmiano coi loro pensieri la bestemmia con le loro opere malvagie ci sono persone che non bestemmiano con la bocca ho già detto prima ma bestemmiano coi loro fatti ecco perché gesù diceva certi uomini che si professavano religiosi si professavano credenti si professavano addirittura ministri ma gesù diceva loro voi siete ciechi che guidano altri ciechi e per causa vostro il mio nome bestemmiato tutto il giorno perché questi falsi religiosi davano un cattivo esempio erano falsi erano ipocriti erano uomini pieni di iniquità avevano un'apparenza di essere giusti ma dentro erano pieni di iniquità allora gesù disse loro per causa vostra il mio nome bestemmiato perciò ci sono bestemmie che provengono da una cattiva condotta da un cattivo esempio forse tu non bestemmi con la bocca grazie a dio però purtroppo bestemmi col tuo comportamento malvagio ti professi cristiano e poi non vivi da cristiano ti professi cristiano ma poi non fai la volontà di cristo e se non fai la volontà di cristo la volontà di quale signore o di quale dio stai facendo se tu non fai la volontà di cristo genuinamente volontariamente ascoltami caro che sei lì sia tu un credente o sia un non credente se tu non fai la volontà di cristo che è il vero dio stai facendo la volontà del dio di questo mondo il dio di questo mondo si chiama satana che dio lo sgridi nel nome di gesù cristo sia sgridato il diavolo viene chiamato il dio di questo secolo o il dio di questo mondo e lui dice la scrittura che voglio leggere in seconda corinzi a mensa avete le vostre bibbia portata di mano leggetele se no prendete nota seconda corinzi alleluia capitolo 4 verso 3 cari fratelli in cristo ripeto diffondete questi messaggi sono molto importanti provengono da dio abbiate il coraggio di diffonderli amen non siate codardi fratelli questo ve lo dico nell'amore del signore perché i codardi non erediteranno il regno dei cieli è scritto apocalisse 22 il vero cristiano il vero credente il vero figlio di dio non può essere codardo tu devi diffondere il messaggio della parola di dio amen gloria al signore seconda corinzi capitolo 4 al verso 3 dice ma se il nostro vangelo è ancora velato cioè è ancora sconosciuto le persone non non riescono a vedere la verità a comprendere hanno un velo un velo una benda di oscurità che non li fa vedere la luce se il nostro vangelo ancora velato esso lo è per quelli che periscono nei quali ascoltate quelli che non credono vedete il dio di questo mondo il dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda il loro la luce dell'evangelo della gloria di cristo che l'immagine di dio vedete qui l'apostolo paolo ispirato dallo spirito santo descrive satana come il dio di questo mondo o di questo sistema terreno peccaminoso il diavolo è il principe di questo mondo secondo le parole di gesù e secondo le scritture il diavolo viene chiamato il dio di questo secolo nel senso che vuol dire che il diavolo è il dominatore di questo mondo di tenebre le persone che vivono lontano dalla luce del vangelo di cristo stanno vivendo nel buio e in quel buio c'è il dominio di satana tramite spiriti maligni tramite i demoni gli spiriti della malvagità e come vengono anche definiti nella scrittura i principati e le potestà dell'aria il diavolo che il dio lo sgridia ancora nel nome di gesù viene chiamato il principe della potestà dell'aria perciò questo ci fa capire che il diavolo che è uno spirito i demoni sono spiriti che girano nell'aria in questo mondo decaduto tu non li puoi vedere ma gli spiriti girano nell'aria gli spiriti diabolici demoniaci sono entità spirituali della malvagità che cercano di possedere le persone possedere i corpi degli uomini e delle donne e questi spiriti quando vedono che una persona non ha la fede in cristo quando una persona non ha la luce di cristo nel cuore questi demoni entrano nel corpo nella mente delle persone nel cuore delle persone e le persone divengono possedute cioè vengono trascinate vengono dominate da questi spiriti e quello che sto dicendo lo so anche per esperienza ci sono persone che vengono dominate dai demoni e questi spiriti li fanno sentire delle voci nella mente li fanno sentire dei dei desideri dei pensieri malvagi affinché quegli uomini pecchino contro dio e diventano schiavi di quella condizione e ora sto trattando questo argomento poi ne tratteremo altri coloro che bestemmiano vengono sono influenzati dal demonio dal diavolo dagli spiriti maligni che sono dentro di loro ci sono persone che a volte possono sentire delle voci nella mente che li vogliono dominare vai a fare questo vai a fare quest'altro oppure pensieri che ti tormentano che ti assillano e che poi ti fanno esprimere delle cose malvagie perché ogni parola che tu dici viene da un pensiero prima di parlare tu pensi quello che devi dire e a volte ci sono uomini che vengono posseduti nella loro mente da quelle voci demoniache o da quei pensieri diabolici e loro sono arrivati a un punto che sono diventati schiavi non riescono più a decidere quello che vogliono fare vengono trascinati ci sono uomini anche che fanno queste cose volontariamente perché sono malvagi ribelli in se stessi l'unico che ti può liberare dall'oppressione del diavolo ascoltami incredulo o credente che sei lì che vive una doppia vita che ci sono anche credenti lo sto dicendo pubblicamente ci sono persone che dicono di credere in gesù ma in verità vengono trascinati anche loro dal diavolo perché non vivono una vera vita cristiana consacrata ma loro senza accorgersene aprono le porte al diavolo ecco la bibbia dice non date luogo al diavolo ma ci sono persone che si professano cristiane ci sono persone che si dicono di essere cristiani ma che in verità loro aprono continuamente le porte al male al buio al diavolo con i loro peccati con le loro disubbidienze le loro debolezze le loro carnalità e anche loro vengono ingannati dal diavolo anche se si chiamano cristiani con la bocca di essere cristiani ma poi con il loro comportamento fanno il contrario di quello che cristo insegna queste persone sono fratelli e sorelle purtroppo influenzate da uno spirito dell'anticristo che sta governando questo mondo queste persone vengono trascinate da uno spirito dell'inganno della menzogna e arriva un punto che il diavolo li acceca come un incantesimo loro pensano di stare bene ma non è così perché il diavolo li ha ingannati con tanti discorsi e tanti pensieri come questi ascoltate ma tu sei a posto non ti preoccupare tu vai a messa la domenica sei a posto sei un cristiano non ti preoccupare non devi esagerare non devi essere fanatico come quelli lì che predicano come quello lì che predica tutti i giorni su internet non devi essere così tu puoi essere cristiano a modo tuo vai al culto fai la tua preghiera sei a posto e poi fai tante cose che dio non gradisce vivi in un modo carnale in un modo che disonora lì dio santo ti professi cristiano con la tua bocca ma il tuo comportamento non riflette la volontà di dio tutti i professi cristiano ma poi ti comporti in un modo incoerente non dai una buona testimonianza coi tuoi compagni di lavoro ti comporti in un modo carnale come tutti gli altri uomini increduli nel nell'università o nella scuola ti con ti confessi cristiano oppure ti professi cristiano ma non vivi come cristo vuole che vivi e stai vivendo una doppia vita tu stai bestemmiando con le tue opere tu stai bestemmiando col tuo cattivo esempio tu stai bestemmiando con la tua ipocrisia col tuo modo di fare il signore come abbiamo letto in deuteronomio 5 non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano chi usa il nome di dio in vano non resterà impunito e ci sono anche ascoltatemi predicatori che usano il nome di dio in vano e anche loro in un certo modo stanno bestemmiando sono blasfematori dicono di essere addirittura predicatori ma usano il nome di dio in in vano predicando dottrine false predicando cose che non sono vere oppure questi predicatori che dicono così dicono loro dio ti farà un miracolo ma tu devi mandare un assegno un'offerta da 100 dollari dio ti benedirà ma tu devi dare un'offerta per questo ministerio di 200 dollari loro stanno usando in vano il nome di di gesù usano il nome di dio in vano ecco perché il signore dirà loro in quel grande giorno io non vi conosco allontanatevi da me operatori di iniquità malfattori bestemmi stemiatori increduli ribelli il signore dirà anche loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me operatori di iniquità per quale motivo perché questi uomini usavano il nome di dio in vano anche se dicevano di essere predicatori ministri addirittura pastori ma usavano il nome di dio in vano per i loro scopi anche questa una bestemmia ecco perché questo rivo questo messaggio è rivolto a tutti i bestemmiatori siano increduli o siano tra virgolette credenti perché ci sono anche certi credenti che stanno bestemmiando che usano il nome di dio in vano addirittura ci sono persone che fanno i loro peccati e usano il nome di dio loro dicono faccio questo nel nome di gesù e poi cosa fanno tanti peccati tu stai bestemmiando il nome del signore il signore non lascerà impunito chi bestemmia il suo nome queste persone diranno signore ma noi abbiamo fatto miracoli nel tuo nome noi abbiamo profetizzato nel tuo nome noi abbiamo fatto tante opere buone nel tuo nome ma loro usavano il nome del signore in vano cioè loro usavano il nome di cristo per i loro interessi per i loro scopi per le loro convenienze loro usavano il nome del signore in vano e anche quella una bestemmia come fanno tanti oggi che usano il nome di cristo in vano per i loro scopi per i loro interessi per il loro guadagno per il loro tornaconto o per la loro fama o per la loro propria persona loro stanno bestemmiando ci sono anche predicatori che stanno bestemmiando mio dio vogliamo dire signore abbi misericordia signore togli quella benda che li ha cecati perché il dio di questo secolo li sta cecando sapete che il dio di questo secolo il diavolo sta cecando tante persone nel mondo non solo increduli ma anche persone che si professano credenti il diavolo li ha ceca con il materialismo con il denaro con la fama io non avevo in mente di dire queste cose fratelli ma dio mi sta guidando e lo dice la bibbia perché il signore nostro gesù cristo parlava alla chiesa di la odicea in apocalisse nelle lettere alle sette chiese gesù riprendeva la chiesa di la odicea loro dicevano di essere cristiani il pastore di quella chiesa si professava cristiano si professava ministro i i i membri della chiesa di la odicea loro pensavano di essere a posto con dio dicevano noi siamo ricchi noi non abbiamo bisogno di nulla noi siamo a posto dicevano la chiesa di la odicea ma gesù dice loro non sapete voi che siete invece dei miserabili siete nell'errore siete ciechi siete poveri siete nudi cioè spiritualmente non avete il mio rivestimento siete nell'errore chiesa di la odicea e gesù disse loro io vi consiglio di acquistare da me le ricchezze spirituali loro affinato col fuoco e ascoltate e di ungere i tuoi occhi col collirio affinché tu veda sapete che ci sono chiese ministri pastori che oggigiorno sono accecati come la chiesa di la odicea pensava di avere tutto di essere a posto di stare bene ma non era così vivevano in un inganno erano ciechi stavano usando il nome di dio in vano in altre parole stavano bestemmiando il signore non lascerà impunito chi bestemmia il suo nome ecco perché il signore dirà loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità allontanatevi da me chi bestemmia il nome del signore non resterà impunito dice la scrittura perciò ci sono persone che bestemmiano nella loro incredulità nella loro ribellione bestemmiano con la bocca ma ci sono persone che bestemmiano con i loro fatti con il loro comportamento anche se si professano cristiani loro con la loro cattiva condotta bestemmiano e rinnegano il nome del signore e anche loro sono colpevoli e se non si pentono il signore non li lascerà impuniti ecco perché cristo dice non chiunque dice signore 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 entrerà nel regno di dio ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli il dio di questo secolo ha ciecato la mente degli increduli e queste persone sono ciechi nel buio e il diavolo li domina ecco perché oggi vediamo uomini che bestemmiano pensano come ho detto all'inizio e qua voglio ancora chiarire questo ci sono uomini che bestemmiano loro lanciano le loro parole malvagie cattive perverse contro il cielo loro pensano che stanno offendendo dio ma in verità come ho già detto qualcuno anche predicando nelle strade quando questi uomini o donne bestemmiano non stanno bestemmiando il nostro dio il dio della bibbia stanno bestemmiando il dio di questo mondo che è satana il diavolo e il loro dio se tu sei un incredulo ascoltami bene ti sto parlando con amore chiamami guarda io ti io non ho paura io ti posso dare anche il mio indirizzo di casa gloria a dio io sono un uomo che dico la verità non ho paura tanti mi dicono fratello non dare il tuo numero e su internet perché un uomo che è sincero perché dovrebbe avere paura io non ho paura chiamatemi quando volete vi do il mio numero gloria a dio e 3 39 così dialoghiamo parliamo ti posso insegnare la parola di dio con amore che salverà la tua anima e ti libererà dal buio dove il diavolo ti tiene incatenato ti tiene prigioniero lo dice la bibbia ti tiene nella schiavitù il diavolo ti sta ingannando ma gesù cristo ti vuole liberare ecco perché ci fa predicare queste cose e ti fa ascoltare che tu sei entrato qui in questo video non è un caso se stai ascoltando non è un caso se ascolti questo video questa parola di dio gesù cristo ti vuole liberare dall'oppressione diabolica dalla possessione o dalle tenebre alleluia perché gesù cristo è venuto a liberare i prigionieri ed egli dice conoscerete la verità la verità vi farà liberi amen alleluia chiamami gloria a dio che ne parleremo in privato amen e io ti risponderò con gioia con amore ma ti dirò la verità gloria al signore perché la verità che ti guarirà che oh alleluia che ti libererà che romperà le catene diaboliche che hai dentro di te la verità di gesù cristo ti libererà oh alleluia questa verità cambierà la tua esistenza gesù cristo sia lodato alleluia e queste verità cari io le predico non solo su internet ma anche nelle strade le predico queste verità pubblicamente alla gloria di dio amen perché il signore ci ha dato questa autorità questa chiamata il signore ci ha fatto questa grazia gloria al signore di poter annunciare l'evangelo con franchezza chiamami 339 455 6834 chiamami ne parleremo non ti chiudere in te stesso non lasciare che il diavolo ti chiuda la mente con quei pensieri che contrastano si umile si disposto a dialogare a dialogare le parole buone le parole del signore le parole di cristo che vuole avere ancora pietà di te chiamami gloria a dio alleluia 339 ve lo scrivo 455 alleluia 6834 amen perciò dicevamo ci sono uomini che vengono trascinati da questi spiriti malvagi loro pensano di offendere il vero dio con le loro parole ma come ho detto all'inizio il vero dio si trova nei luoghi altissimi le tue bestemmie o i tuoi cosiddetti insulti le tue cosiddette imprecazioni o le tue bestemmie non arrivano in cielo quelle parole vuote non possono salire in cielo perché in cielo non può entrare l'iniquità ascoltami bene bestemmiatore le parole malvagie che tu proferisci le imprecazioni le bestemmie che tu pensi di proferire contro il re dei re non salgono lassù ma ti ricadono addosso sulla tua testa e io te lo dico con amore non lo fare più perché se tu continui a fare quello tutte quelle bestemmie che tu pensi di lanciare verso l'altro ma che invece ti ricadono addosso un giorno spaccheranno la tua testa nel vero senso della parola sarai distrutto sarai spezzato sarai annullato con il male che tu hai fatto il male che tu hai fatto ti ricadrà addosso e io te lo dico per amore guarda io vorrei entrare nel video e abbracciarti e dirti gesù ti vuole guarire gloria a dio gesù ti vuole salvare gesù ti vuole purificare oh alleluia ma io credo che il signore stesso ti abbraccia amene io credo che lo spirito santo in questo momento ti tocca io credo che lui ti libera alleluia perché lui è buono e grande misericordioso lui ti vuole guarire alleluia ti vuole liberare ti vuole purificare ti vuole salvare oh gloria a dio ma se tu non ti ravedi quelle parole che tu pensi di lanciare contro il cielo e che invece ti ricadono addosso giorno per giorno ti cadono addosso perché il male che fai il male stesso ti ricadrà addosso la bibbia dice nei proverbi chi scava una fossa e gli stesso vi cadrà chi semina il male il male raccoglierà lo dice la bibbia l'anima che pecca morirà il salario del peccato è la morte ma il dono di dio è la vita eterna in cristo gesù ma se tu non ti penti tutte quelle parole malvagie che tu stai pronunciando ti distruggeranno ogni bestemmia che tu stai dicendo è una autocondanna per te stesso ti stai condannando da solo ti stai rovinando da solo non lo fare più non continuare più in quell'inganno del diavolo e poi ti voglio dire quelle bestemmie che tu dici non arrivano all'iddio vivente all'iddio vero non arrivano in cielo te l'ho già detto perché il cielo è un luogo santissimo un luogo puro un luogo alleluia pieno di luce il peccato non può entrare in cielo quelle parole che tu dici non arrivano a dio ma arrivano contro te stesso alleluia e quelle parole sono come un boomerang sai cos'è un boomerang? un boomerang è un oggetto che gli uomini usano per lanciare loro lanciano il boomerang ma poi il boomerang ritorna verso di loro così sono le bestemmie sono parole malvagie che tu pensi di lanciare o di tirare contro dio ma invece ti stanno rovinando te stesso ricadranno su te stesso distruggeranno te stesso e poi ti voglio dire quel dio che tu bestemmi non è il vero dio è il dio di questo mondo perché il tuo dio se tu non credi nel signore Gesù Cristo se tu sei un incredulo un ribelle o sei un falso credente il tuo dio non è il vero dio non è Gesù Cristo non è il signore ma il tuo dio è il diavolo perché il dio di questo secolo il dio di questo mondo con la d minuscola il dio di questo mondo è il diavolo e se tu non credi in Cristo tu sei sotto il dominio del diavolo perciò il dio tra virgolette che tu stai bestemmiando in verità è il diavolo che è tuo padre perché tu sei un figlio del diavolo perché dice la Bibbia Gesù Cristo disse a certi uomini voi siete figli del diavolo perché fate le opere del diavolo fate le opere del padre vostro ogni persona incredula ribelle che vive nella malvagità nelle bestemmie è un figlio del diavolo tu sei un figlio del diavolo tu hai bisogno di essere liberato tu hai bisogno di essere guarito tu hai bisogno che Gesù Cristo ti liberi da quella condizione terribile tu sei un figlio del diavolo è il diavolo che è il padre dell'inganno il padre della menzogna il padre del peccato ti vuole trascinare alla distruzione ma il Signore Gesù Cristo nella sua misericordia vuole liberarti vuole perdonarti vuole salvarti affinché tu diventi un figlio dell'iddio vivente dell'iddio vivente vero oh alleluia affinché tu non sia più un figlio di Satana con i tuoi peccati con la tua ribellione con la tua malvagità con le tue bestemmie che ti stanno rovinando la tua stessa vita tu stai seminando per il peccato e alla fine il peccato ti distruggerà perché il Dio non lascerà impunito chi fa quelle opere malvagie perciò questo pomeriggio questo pomeriggio rifletti e ricordati che Gesù Cristo morì alla croce anche per te alleluia il figliuolo di Dio il Nazareno il re dei re morì alla croce anche per te per salvarti dalla distruzione eterna per salvarti dalla dannazione eterna per salvarti dall'inferno Gesù Cristo morì anche per te voglio leggere un'altra parola prima di finire gloria al Signore oh alleluia gloria a Dio benedetto il nome di Gesù voglio leggere un'altra parola amen gloria al Signore alleluia nella seconda lettera di Paolo a Timoteo rifletti tu che mi stai ascoltando Gesù Cristo ti vuole liberare dalle tenebre perché il figlio di Dio il Messia Gesù di Nazareth alleluia il re di re Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori egli è venuto nel mondo per cercare salvare ciò che era perduto e Cristo è venuto nel mondo per liberare i prigionieri amen rifletti questo pomeriggio cara anima che mi ascolti uomo che sei lì donna che sei lì sia tu incredulo o sia tu un credente solo di nome Gesù ti vuole liberare gloria a Dio riconosci che hai bisogno di Lui alleluia riconoscilo adesso perché tu non sai se domani avrai un'altra occasione il domani non ci appartiene il domani non è tuo se tu muori oggi dove va la tua anima se tu muori adesso dove va la tua anima se oggi finisce la tua vita dove va la tua anima tu hai bisogno di Gesù riconciliati con Dio pentiti invoca il nome di Gesù chiedi perdono a Lui alleluia gloria a Dio implora la sua misericordia ascolta questo uomo che ti dice la verità per amore per amore se hai bisogno di un aiuto spirituale di una preghiera di una parola da parte di Dio di un incoraggiamento chiamami io sono qui al servizio del Signore e delle anime che vogliono ascoltare la sua parola siamo qui alleluia per aiutarti Gesù ti vuole liberare Gesù ti vuole salvare ti vuole liberare dal buio dal peccato dai demoni che ti opprimono che ti tormentano a volte dentro di te hai tanti pensieri che non ti danno pace sei tormentato dentro continuamente nella tua mente hai dei pensieri che ti disturbano Gesù Cristo ti vuole liberare Gesù Cristo è il principe della pace alleluia Gesù Cristo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo amén Gesù Cristo è il grande salvatore affidati a lui con un atto di fede con un passo di fede verso di lui rivolgiti a lui perché lui è vivo lui è reale lui è presente lui ci ascolta alleluia Gesù non è una statua Gesù non è un'immagine di legno Gesù non è un disegno da appendere al mulo Gesù Cristo è il re dei re è l'onnipotente l'onnipresente alleluia l'iddio dei miracoli l'iddio che ha tutta la potenza imploralo pregalo rivolgiti a lui chiedetevi sarà dato dice il Signore rivolgiti a lui in questo momento chiedi perdono a lui dei tuoi peccati tu non devi andare da un uomo da un prete da un papa non devi chiedere perdono ai preti perché loro sono pure loro dei peccatori anzi a volte peccano più di tutti corrotti omosessuali pedofili io ne ho sentiti fratelli di tutti i generi riguardo ai preti l'altro giorno mentre evangelizzavo parlavo con un uomo mentre predicavo la parola di Dio un uomo si avvicina a me per dialogare mi dice io ho ascoltato quello che dicevi sono parole belle è vero ci vuole la fede ci vuole Gesù e questo uomo fratelli mi confessò cioè mi raccontò che lui aveva problemi di omosessualità e che lui riconosce che è una cosa sbagliata che vuole cambiare vuole essere guarito e per la gloria di Dio questo uomo ha aperto il cuore a Cristo e Gesù lui ha iniziato un'opera e lui e questo uomo mi raccontò che lui a volte cercava di andare dai preti a confessarsi ma questi preti questi cosiddetti preti sacerdoti dicevano che non avevano mai tempo no no non abbiamo tempo oppure lo facevano aspettare due tre ore poi non lo confessavano tra virgolette e addirittura mi racconta questo uomo che quando una volta lui si è confessato davanti a un cosiddetto prete e gli ha detto i suoi peccati che lui era omosessuale che lui andava con uomini che lui aveva questi problemi di livello sessuale il prete dopo averlo confessato tra virgolette gli dà un bacino gli dà un bacino così gli lancia un bacio e gli dice ma tu sei un tipo che fa per me e il prete questo prete gli si è offerto gli ha detto tu ci dobbiamo incontrare e io vedo che tu sei un tipo per me gli ha detto vedete che condizione si trova l'umanità tu non hai bisogno di un prete per confessarti tu hai bisogno di Gesù Cristo alleluia che è il sommo sacerdote della nostra fede alleluia tu hai bisogno di Gesù tu hai bisogno di invocare il nome del Signore tu hai bisogno di chiedere perdono a Lui direttamente tu non hai bisogno di un sacerdote di un prete di un cardinale di un papa di una statua di una madonnina di un santerello di un immaginetta tu non hai bisogno di nulla tu hai bisogno di Gesù Cristo e di invocare Lui con una fede sincera alleluia di dire Gesù perdone i miei peccati Gesù Cristo io credo in te che sei morto per me alla croce perdonami Signore alleluia rivolgiti a Lui questo pomeriggio Lui ti vuole dare la salvezza ti vuole dare un cuore nuovo ti vuole purificare da tutte le tue iniquità perché Lui morì alla croce per salvare i peccatori Lui offrì se stesso il suo sangue il suo corpo alla croce il suo sangue come un sacrificio spiatorio e dice la Bibbia che il sangue di Cristo che fu versato alla croce una volta per sempre ci purifica da ogni peccato e se tu credi tu diventerai un figlio di Dio diventerai un uomo nuovo una donna nuova il Signore ti libererà da qualsiasi tipo di schiavitù o di peccato il Signore ti darà un cuore nuovo e metterà dentro di te il suo santo spirito che ogni giorno ti guiderà nella retta via come fa con noi ogni giorno a Dio sia tutta la gloria voglio condividere ancora un verso nella seconda lettera a Timoteo capitolo 2 verso 24 dice così la parola di Dio ora un servo del Signore non deve contendere amèn ma deve essere mite verso tutti atto ad insegnare e paziente nelle offese subite ammaestrando guardate ammaestrando o insegnando con mansuetudine gli oppositori se mai avvenga che Dio conceda loro di ravedersi per riconoscere la verità e ritornino in sé sottraendosi o fuggendo dal laccio del diavolo che gli aveva fatti i prigionieri perché facessero la sua volontà questo pomeriggio io ho predicato questa parola di verità per gli increduli o per i credenti che stanno vivendo nell'inganno e questa parola vale per tutti io sono qui a predicarla pubblicamente e sono qui per esprimere per dichiarare la verità non per contendere io predico ma non per contendere con nessuno ma per dichiarare l'unica verità che ti può salvare dalla distruzione dall'inferno la verità che si chiama Gesù Cristo alleluia il figlio di Dio la via la verità e la vita e sono qui a predicare con amore per il tuo bene anima che mi ascolti uomo che mi ascolti donna che mi ascolti tu che stai vivendo nel peccato nella ribellione nelle bestemmie tu che sei schiavo del diavolo sei prigioniero di satana questo pomeriggio la parola di Dio dice che tu puoi essere liberato dal laccio del diavolo che ti teneva prigioniero se tu riconosci la verità alleluia del Vangelo di Gesù Cristo anche voi che siete lì se tu riconosci la verità del Vangelo tu diventerai tu diventerai un uomo libero perché Gesù Cristo dice cari conoscerete la verità e la verità vi farà liberi tutti noi come esseri umani anche io in un modo o nell'altro ero schiavo di qualcosa io ero schiavo dei miei peccati ero schiavo dei miei vizi ero schiavo delle cose che mi dominavano non conoscevo Gesù ma dal giorno che ho conosciuto la parola di Cristo sono diventato un uomo libero e Gesù Cristo vuole liberare anche te che stai ascoltando proprio oggi con la sua parola Gesù disse conoscerete la verità e la verità vi farà liberi il Vangelo carissimi è un messaggio di libertà un messaggio di guarigione per la nostra anima per la nostra coscienza per i nostri cuori perché lo ripeto ancora il nostro cuore se vive lontano da Dio lontano dal Signore il nostro cuore è schiavo è schiavo del male del peccato dei cattivi desideri il cuore dell'uomo senza Dio è un cuore in rovina un cuore distrutto un cuore pieno di malvagità ma Gesù Cristo voglio leggere per finire Isaia 61 Alleluia ascoltate carissimi Alleluia e credete cari che siete qui anche voi e sarete due discepoli di Gesù Cristo ve lo dico con amore Amen Alleluia Isaia 61 leggiamo cosa dice la parola e con questo voglio finire questa riflessione che il Signore illumini tutti coloro che hanno ascoltato con umiltà e che Dio abbia pietà ancora dei ribelli per la gloria del Signore Gesù Cristo Isaia 61 voglio leggere questi versi che parlano di quello che Gesù Cristo è venuto a fare nel mondo a liberare l'umanità che era prigioniera del peccato e Gesù Cristo è venuto dal cielo per renderci liberi e per farci diventare veri figli di Dio veri uomini che possono vivere la vita che il Signore ha preparato per ognuno di noi alleluia Isaia 61 dice così la parola del Signore lo Spirito del Signore l'Eterno è su di me e qui parla dell'opera del Messia lo Spirito del Signore è su di me perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto vedete che Gesù Cristo è stato inviato dal Padre è stato mandato da Dio per fasciare quelli dal cuore rotto cioè per guarire quelli che avevano un cuore rotto un cuore distrutto un cuore in rovina Gesù Cristo è venuto a fasciare i nostri cuori cioè a guarire i nostri cuori oh alleluia che grande verità uomini e donne che mi ascoltate accoglietelo anche voi e anche voi sarete guariti dalle vostre malattie spirituali sarete liberati dai vizi sarete liberati dai peccati qualsiasi peccato esso sia puoi essere un omosessuale puoi essere un travestito un drogato una prostituta un mafioso se c'è qualche mafioso che mi ascolta Gesù può salvare anche te che sei un mafioso puoi essere un governatore bugiardo un politico bugiardo un ladrone puoi essere un bestemmiatore oppure puoi essere anche un falso religioso dici di credere vai a messa vai alla chiesa e poi di nascosto fai tanti peccati anche tu hai bisogno di essere guarito alleluia puoi essere un adultero una adultera hai tradito tua moglie hai fatto tanti peccati Gesù ti può guarire perché tutti quei peccati ti portano all'inferno alla morte alla distruzione ma Gesù Cristo ti vuole guarire vuole purificarti vuole restaurarti vuole redimerti alleluia mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto a proclamare la libertà a quelli in cattività l'apertura del carcere i prigionieri guardate cosa è venuto a fare il Messia Gesù il Cristo alleluia il figlio di Dio è venuto nel mondo per salvare i peccatori e per proclamare libertà ai prigionieri per aprire le carceri ai prigionieri e qui parla di carceri spirituali non di quelle prigioni e materiali di sbarre non parla di quelle ma la prigione dell'anima la prigione che hai dentro di te che non sei libero sei schiavo sei prigioniero del male del peccato del diavolo che ti sta trascinando Gesù Cristo è venuto a aprire le carceri è venuto a liberare i prigionieri credi in Lui questo pomeriggio e tu vedrai un miracolo nella tua vita il Signore toglierà il buio e metterà la sua luce dentro di te invocalo in questo momento digli col cuore digli fai tua questa verità questa preghiera accogli la salvezza invoca il Signore e dili Signore Gesù Cristo tu puoi ripetere queste parole col tuo cuore Signore Gesù Cristo perdoni i miei peccati Signore Gesù ho bisogno di te sono un peccatore ma ti chiedo perdono perdonami Signore io mi pento di tutti i miei peccati Cristo Dio mio Salvatore mio perdonami Signore io ero nel buio ero perso ma ti prego perdonami Signore salvami illumina il mio cuore io credo che tu sei morto una croce per me io credo che tu sei reale che tu sei vivente che tu sei il re del re Signore io non sto pregando una statua io non sto pregando un'immagine io sto pregando te mio Dio con il mio cuore io voglio credere solo in te Gesù Cristo che sei la via la verità e la vita guarisci il mio cuore guarisci la mia anima guarisci la mia esistenza salvami Signore liberami dal buio e metti la tua luce dentro di me perdonami salvami scrivi il mio nome nel libro della vita nel regno dei cieli Gesù Cristo io ti voglio seguire io voglio seguire la verità il bene voglio seguire la retta via della salvezza la tua parola aiutami Signore io mi affido a te io confido in te io mi aggrappo a te grazie Signore io credo nel nome di Gesù Cristo Amen 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 se tu hai creduto questa verità e tu hai invocato il nome di Gesù Cristo abbi la certezza che da oggi la tua vita non sarà più la stessa di prima ma tu da oggi sei diventato un figlio di Dio per la grazia per la misericordia e per la gloria di Gesù Cristo il benedetto in eterno vi saluto carissimi nell'amore di Dio se avete ricevuto Cristo nei vostri cuori raccontatemelo scrivetemi e se non lo avete ancora fatto io continuo a pregare per voi che la parola di Dio vi illumidi perché la parola di Dio è potente la parola di Dio sa come arrivare nella profondità delle coscienze e noi continueremo a pregare per voi nel nome di Gesù Cristo Alleluia e voi che siete veri cristiani continuate ad andare avanti fratelli e sorelle continuiamo a seguire questa strada questa via questa verità perché un giorno avremo la ricompensa che il nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo il re dei re ci darà perciò vai avanti fratello sorella non temere ma fortificati nel Signore e si un buon soldato di Gesù Cristo a Dio tutta la gloria la lode e l'onore nei secoli dei secoli grazie Padre Figlio Spirito Santo Amen Alleluia Alleluia Gloria al Signore Amen Shalom Adonai Amen Gloria al Signore